Grazie, Presidente. Io intervengo per quello che lei ha detto prima, cioè che in questa fase si dovrebbero sollecitare gli atti di sindacato ispettivo. Bene, io ne ho presentati 109 di interrogazioni e risposte in Commissione e dall'inizio della giudiziatura soltanto 24 hanno avuto risposta. Alcune sono del 23 maggio del 2013 e per quanto riguarda il regolamento si prevede all'articolo di 128 e seguenti un tempo ben definito per dare risposta a queste interrogazioni. Queste sono soltanto quelle di cui io sono primo firmatario. Ovviamente se vuole io le faccio l'elenco, ma ovviamente la Presidenza può reperire questa informazione e quindi il mio è un invito formale a sollecitare tutte le interrogazioni di cui io sono firmatario, sia come primo firmatario, sia quelle degli altri miei colleghi che appunto mi vedono come co-firmatario. La ringrazio. La ringrazio. Allora la Presidenza ovviamente si farà parte diligente nel sollecito. Do quindi lettura dell'ordine del giorno alla seduta di venerdì 8 maggio 2015, ore 9 e 30. Svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta. Grazie. 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 Grazie.